Andiamo dal Don, ciao Don! Eh ciao 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 ciao, io oggi per gli ottimisti, per gli ottimisti dico che il mondo nonostante tutto ha sempre una parte dritta, nonostante tutto il mondo ha sempre una parte dritta, va bene? Per gli ottimisti va bene? Ci piace da matti Don! Ciao ciao! Ciao Don!